www.italiaeconomia.it Il diamante è un investimento o una gemma di valore ma difficile da rivendere? La questione è al centro di un'accesa polemica con i gioiellieri da una parte che ritengono non sia un investimento e le banche dall'altra che avvalendosi di alcune società di intermediazione li propongono alla clientela come bene rifugio. Ma ora è la Consob, chiamata in causa da gioiellieri e associazioni di consumatori che vuole vederci chiaro e capire se ci sono speculazioni in atto. La Commissione ha infatti aperto un fascicolo nei confronti di alcuni istituti di credito e di società di intermediazioni, visto che non esistono quotazioni ufficiali come per loro. Il diamante venduto al di fuori del circolo di gioielleria e quindi venduto attraverso intermediari istituti di credito molte volte è sopravvalutato rispetto a quelle che sono le caratteristiche della pietra stessa. Molte volte vengono promesse una sorta di investimento quindi un ritorno del denaro investito ma molte volte non accade questo. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci con molti consumatori delusi che ovviamente si sono rivolti alle nostre gioiellerie in cerca ovviamente di chiarimenti sul diamante che magari avevano acquistato in assoluta buona fede attraverso il circuito bancario attraverso alcuni istituti che ovviamente offrono questo servizio e ovviamente di fronte a delle quotazioni molto basse rispetto al prezzo pagato c'è stata una grande derusione. La Feder Preziosi ha sferrato un contrattacco con una campagna informativa nelle vetrine dei negozi. Per capire se un diamante è di buona qualità ci sono alcune caratteristiche, le famose 4C che un occhio esperto come quello di Roberto Giansanti gioielliere e perito del Tribunale è in grado di valutare. Le 4C essenzialmente è il peso in carati cut che sta a significare né più né meno come sono tagliato non tanto la forma esterna ma proprio se le proporzioni di taglio sono giuste poi clarity significa quanto sono pure color, il colore i diamanti possono avere un colore che vada leggermente leggermente colorato ed è l'azoto che dà questo colore giallo a un colore che io lavo più bianco che significa un bianco talmente alto che poi comunque per rilevarlo ci vogliono o degli strumenti o un occhio con delle master stone come in questo caso che hanno già definito il loro colore e possono mettendole vicina alla dipiede in esame si può vedere la differenza che esiste. La questione dei diamanti ha suggerito perfino a Maurizio Crozza un esilarante sketch. Guardi questo diamante che bello Ah che bello Lo propongono tutte le banche come bene rifugio lo vuole? Beh non lo so quanto costa È un affare Sì Ma solo perché lei? 8.000 euro Sì ma 8.000 euro è proprio il valore di mercato? No sul mercato dei diamanti questo qui non vale una minchia No In una qualsiasi gioielleria costa di più il tappetino di velluto dove glielo fanno vedere Intermarket Diamond Business società leader in Italia nell'intermediazione dei diamanti attraverso canale bancario si difende La questione è posta in termini non corretti in quanto in gioielleria si acquista un bene di lusso ma finalizzato a se stesso finalizzato al piacere personale Invece chi acquista un diamante in banca lo fa acquistando un bene associato a tutta una serie di servizi fondamentali che fanno di questo bene un vero e proprio investimento Diamanti comunque da indossare finché le donne continueranno a considerarli i loro migliori amici Qualità veloce con menu a tempo si chiama Attimi ed è il nuovo ristorante che lo chef Heinz Beck ha aperto all'aeroporto di Fiumicino Si chiama Attimi by Heinz Beck ed è il nuovo ristorante che apre all'aeroporto di Fiumicino nel Terminal 3 un nuovo concetto di ristorante in cui lo chef pluristellato Heinz Beck intende far mangiare fast con qualità slow preparando pasti prelibati nel giro di 30, 45 o al massimo 60 minuti tempi stretti per viaggiatori quelli che aspettano di partire sono dunque in transito nello scalo romano Attimi perché in aeroporto tu hai solo poco tempo e in questi pochi attimi tu devi trovare il cibo giusto il cibo che ti aiuta ad affrontare un viaggio lungo ti permette di non appesantire il tuo organismo noi facciamo una cucina licera dei sapori mediterranei piatti profumati gustosi ma allo stesso tempo molto leciri Ogni tavolo del locale è dotato di una clessitra in modo che il cliente abbia la percezione del tempo che scorre e possa verificare la puntualità delle portate Il progetto nasce in partnership con Chef Express la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del gruppo Cremonini Questa è la sfida principale riuscire a portare anche nel mondo della ristorazione in viaggio una qualità della cucina e quindi dell'esperienza food di altissimo livello pur rimanendo alla portata di tutto Una sfida che Heinz Beck sintetizza così Un piatto cucinato male e un piatto cucinato bene impiega lo stesso tempo Nasce la prima banca di prossimità in Europa con Intesa San Paolo l'offerta arriva in tabaccheria Nasce la prima banca di prossimità in Europa con l'arrivo dei servizi di Banca 5 ed Intesa San Paolo nelle tabaccherie di tutta Italia Un risultato ottenuto grazie all'acquisizione a dicembre scorso del 100% di Banca ITB l'istituto online che gestisce la rete delle tabaccai Intesa San Paolo ha 3.500 sportelli 77.000 ATM con l'acquisizione di Banca ITB a questo punto riusciamo a coprire il territorio addirittura con oltre 30.000 punti vendita fra filiali ATM e i locali dei tabaccai i locali dei tabaccai attraverso la trasformazione da Banca ITB in Banca 5 che potranno erogare non più soltanto servizi di pagamento e accessori ai servizi di pagamento ma anche quella che era l'attività di instant banking per cui conti carte prestiti personali parliamo di small ticket assicurazioni e altri servizi accessori cambiare per continuare a crescere è importante oggi celebriamo la nascita di Banca 5 non soltanto un modello di servizio ma una banca con la sua fisicità fatta a questo punto degli oltre 20.000 punti vendita dei tabaccai una sfida per l'intesa San Paolo e una potenziale fonte di guadagno per i tabaccai che vorranno mettersi in gioco la borsa è in attesa delle prossime mosse del neo eletto presidente degli Stati Uniti Trump l'analisi nella finestra sui mercati dopo una prima reazione positiva dei mercati finanziari agli annunci programmatici di Donald Trump le borse hanno assunto un atteggiamento più cauto attendisse in attesa di capire quali saranno le scelte concrete del neo eletto presidente degli Stati Uniti che il 19 gennaio si è insediato alla Casa Bianca il mercato tende ad anticipare quelli che sono i movimenti futuri quindi anche in questo caso è andato un po' più avanti rispetto alle dichiarazioni di Trump aspettando di vedere i fatti concreti in ogni caso però se Trump sarà in grado nelle prime settimane di dare degli annunci concreti il mercato lo seguirà e quindi credo che anticiperà anche le mosse future d'altra parte ci sono stati degli annunci che inevitabilmente hanno fatto presa sui mercati come la deregolamentazione da tutti i vincoli che erano stati imposti successivamente al crack della Lehman Brothers diciamo che Trump all'inizio aveva lasciato tutti un po' imbarazzati riguardo alla sua personalità e al suo modo di agire in realtà nei fatti si è dimostrato molto più capace si è circondato di uno staff che è sicuramente il migliore delle ultime amministrazioni americane persone molto competenti e secondo me persone in grado di fare veramente quella deregolamentazione e soprattutto quelle nuove riforme fiscali che saranno così necessarie a far aumentare la crisi negli Stati Uniti di contro però quella di Trump intende chiaramente essere una politica protezionista America's first un eccesso di protezionismo sugli scambi commerciali potrebbe essere un danno molto grave ma io penso che alla fine ci sarà trovata una mediazione soprattutto a un certo punto l'Europa dovrà seguire di più gli Stati Uniti visto che è cambiata l'amministrazione visto che il rapporto con la Russia è decisamente cambiato penso che l'Europa dovrà necessariamente adeguarsi tutto questo potrebbe ristabilire una serenità che sui mercati manca da tempo soprattutto nei rapporti tra l'Europa e la Russia ma il processo legislativo è lungo e tutt'altro che privo di ostacoli i mercati potrebbero scontare l'attesa con la volatilità diciamo che i mercati l'instabilità politica la scontano in maniera negativa quindi è probabile che ci siano delle fasi di rialzo seguiti da fasi un po' più riflessive un po' come quella a cui stiamo accadendo ultimamente nelle ultime settimane dopo un iniziale rialzo il mercato è un po' consolidato ma è normale però la tendenza di lungo termine seguirà quelle che sono le stime economiche e quindi quelle che sono le proiezioni sulla crescita americana in futuro dalla riduzione dei costi via l'Italia ai dati su PIL e occupazione giovani vediamo l'attualità economica in 120 secondi all'Italia ha avviato una drastica riduzione dei costi che prevede risparmi per almeno 160 milioni di euro già nel 2017 questi ultimi non riguardano il costo del personale capitolo che andrà affrontato a valle di un piano più dettagliato ad annunciarlo l'amministratore delegato del gruppo Kramer Balla sul piano stanno lavorando due advisor quello industriale Roland Berger e quello finanziario KPMG Dopo la crescita dello 0,3% registrata nel terzo trimestre gli ultimi dati indicano un'accelerazione per l'Eurozona nel quarto trimestre del 2016 e la BCE si attende un rafforzamento nel 2017 ma i buoni segnali non devono far abbassare la guardia è il messaggio che arriva dal presidente della BCE Mario Draghi che lega la crescita alle riforme e che può essere minacciata dall'andamento rallentato nell'attuazione delle riforme Aumenta il tasso di occupazione dei giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni che, pur rimanendo basso è aumentato di 3,8 punti percentuali dall'ultimo quarto del 2013 al terzo trimestre 2016 quello dei 15-24 anni è aumentato di 1,7 punti lo dice una nota del Centro Studi Confindustria che analizza la situazione del lavoro in Italia una ripartenza avvenuta anche grazie all'incentivo dell'abbattimento contributivo Carrefour ha annunciato una ristrutturazione che coinvolgerà 500 lavoratori dichiarati in esubero in aggiunta la chiusura dei punti vendita di Borgomanero Trofarello e Ponte Cagnano lo affermano le organizzazioni sindacali di categoria di CGL Cisle Will in Italia nel 2016 Carrefour ha realizzato vendite per 5,848 miliardi di euro l'IRPEF pesa di più su lavoratori pensionati in 12 anni da 2003 al 2014 l'imposta pagata dalle due categorie è passata da 75,59 all'80,94% con un incremento di 5,3 punti percentuali cala per contro il contributo di autonomi reddito di imprese da partecipazione è quanto emerge dall'aggiornamento del rapporto sulla struttura dell'IRPEF elaborato dall'Associazione per la Legalità e l'Iquità Fiscale Torna l'appuntamento con la rubrica Prometeo dedicata all'economia verde valanghe l'importanza della prevenzione un pianeta malato di spreco a Roma la mostra Scarcity Waste la valanga che lo scorso 18 gennaio ha spazzato via all'hotel Rigopiano in Abruzzo potrebbe essere stata innescata da scosse di terremoto si tratta di eventi meteorologici estremi che si possono ancora verificare nonostante il fatto che le temperature più elevate possano portare a minori nevicate in senso medio la realtà è che eventi estremi come quello a cui stiamo assistendo si possono verificare quindi forti nevicate possono ancora accadere e dobbiamo tenere la guardia alta soprattutto dal punto di vista della comprensione di questi fenomeni e della prevenzione di potenziali rischi in montagna tra cui valanghe enormi come quelle che si sono viste in questi giorni per questo è importante prevenire grazie allo studio di questi fenomeni ma sono necessari dati e informazioni questo serve perché permette di comprendere appunto il grado di eccezionalità di eventi come questi che sono successi ma anche di proporre un approccio alla zonazione del rischio all'interno di queste zone è necessario predisporre opportune contromisure quindi ove vi siano delle zone abitate o comunque dei beni o delle persone a rischio è importante costruire opere di protezione quali mure paravalanghe o dighe paravalanghe o altro diciamo un pianeta ammalato di spreco diviso tra la scarsità di risorse e l'utilizzo sfrenato che se ne fa è la mostra scarcity waste che chiude il suo tour mondiale con la tappa romana presso Italy Roma Ostiense a raccontare il paradosso del nostro tempo questo è il grande dilemma della società moderna è il grande tema che stiamo affrontando in questo momento storico il tema dello spreco alimentare noi l'abbiamo già posto all'ordine del giorno nel nostro paese in due modi uno con Expo 2015 a livello italiano l'abbiamo affrontato anche con una legge sullo spreco alimentare già approvata dal Parlamento che contiene molte azioni contro lo spreco alimentare e penso che questo sia un segno di grande civiltà del nostro paese in mostra fino al 9 febbraio le immagini vincitrici dell'edizione 2015 del concorso internazionale di fotografia organizzato da Singenta che ad ogni tappa del tour ha avviato un confronto sul tema dell'ingiusta distribuzione di cibo acqua ed energia promuovendo la riflessione sul tema dello spreco la Singenta è un'azienda a livello mondiale impegnata nell'agricoltura sostenibile e siamo consapevoli che in futuro bisognerà produrre di più e soprattutto meglio tenendo molta attenzione all'utilizzo delle risorse a livello mondiale l'utilizzo del cibo è ancora sottoposto a un enorme spreco basti pensare che un terzo delle produzioni mondiali sono considerate sprecate in Europa e in America addirittura la metà di quello che viene prodotto viene sprecato credo che questo sia un aspetto che sia socialmente che moralmente non sia più sostenibile e l'Italia in particolar modo è in una posizione estremamente avanzata di sensibilità su questa tematica il Singenta Photography Award è il premio internazionale che punta a creare consapevolezza sulle sfide che il pianeta è chiamato a gestire in mostra una selezione dei migliori progetti tra quelli presentati dagli oltre 2000 fotografi professionisti e amatoriali di tutto il mondo che hanno partecipato al concorso e questa era la nostra ultima notizia l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana per rivedere i nostri servizi basta andare sul sito adncronos.com nella sezione Multimedia Italia Economia grazie per essere stati con noi arrivederci Grazie per la visione